e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mannaggia ieri hanno posticipato la patch 11.11 che sarebbe dovuta arrivare e che ovviamente era tanto tanto attesa da tutti i leakers e da tutta la community mondiale di fortnite sembrerebbe che abbiano avuto alcuni problemi proprio nelle ultime ore prima del rilascio ufficiale della patch con alcune skin almeno questo è ciò che è trapelato un pochettino nei forum più vicini ad epic games su reddit il vero problema in realtà è che sono davvero tantissimi giorni che non arrivano aggiornamenti concreti su fortnite sul battle royale quindi giustamente la community comincia un po' a risentire questo ristagno del gameplay e ovviamente a gran voce tutti stiamo cercando di invogliare epic games ad ottenere a darci la possibilità di ottenere un nuovo veicolo o comunque un nuovo movement staremmo ovviamente qua in attesa e speriamo che almeno domani arriverà finalmente questo nuovo aggiornamento nel video di oggi parleremo però anche della modifica nell'immagine e in creativa quella di cui vi ho parlato nel video di ieri mattina la versione maschile della skin del sergente trifoglio quella di san patrizio oggi o meglio ieri è stata modificata notizie anche per il nostro tanto amato jarvis lo ricorderete tutti bannato per il discorso dell'utilizzo di hack abbiamo alcune notizie per il suo futuro che arrivano direttamente da lui e poi attenzione perché twitch non perdona ragazzi i ban ai giocatori di fortnite ai pro player di fortnite continuano a piovere come se fossero coriandoli a carnevale vi farò vedere un pochettino che cosa è successo nuovamente prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per la vostra compagnia e mi raccomando se volete supportarmi codice creatore xuderone non dimenticatevi ovviamente di iscrivervi a entrambi i canali e se la trovassi non la trovo e ovviamente di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video prima comunque la domandina ve la devo fare e grazie ancora per rispondere ogni giorno in tantissimi proprio qua sotto nei commenti alle domande che vi faccio domanda di oggi veramente stai qua veramente molto molto semplice ragazzi ma qual è il tuo set preferito tra quelli dei dinosauri ce ne sono ben tre forse non ve lo ricorderete ma i rex e la triceratopa singole normali classici la versione dark che abbiamo tra l'altro ottenuto qualche giorno fa e il tizio da solo quindi il ragazzo di colore con il costume da dinosauro qual è il vostro preferito ragazzi il mio personalmente è il rex normale anche perché è stata una delle primissime skin leggendarie che ho shoppato in season 4 ditemi qual è quindi la vostra preferita qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare di battle breakers che cos'è battle breakers è il nuovo videogioco per mobile che è sviluppato da epic games è un mix tra una battaglia se non ho capito male comunque con dei personaggi con le carte che ha le statistiche giochi ovviamente per mobile che in questi giorni sta facendo il suo primo evento e guarda caso e non potrebbe essere diversamente l'evento è proprio dedicato a fortnite perché è importante parlare un attimo di battle breakers perché l'icona del gioco è una skin che è stata trovata nei file di gioco di fortnite ve l'avevo già fatta vedere ma per chi se la fosse persa gliela faccio rivedere ed eccolo qua ragazzi direttamente dal battle royale abbiamo dentro una skin che probabilmente verrà rilasciata si spera in questi giorni anche perché al momento non ci sono altre skin nuove in arrivo quindi fino al prossimo aggiornamento non sapremo assolutamente nulla skin davvero molto molto carina una guerriera con queste con questi richiami vagamente steampunk che sono veramente molto divertenti speriamo ovviamente di vederla presto nel battle royale e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi ve la ricordate questa è l'immagine che vi avevo mostrato ieri praticamente una miniatura di un'isola increativa che ha fatto scalpore in tutta la community di fortnite ovviamente perché ha fatto scalpore perché viene mostrato una skin che non esiste quindi non abbiamo mai visto appunto la versione maschile del sergente trifoglio modifiche subito prontamente da parte di ep games che oggi sostituiscono che ieri sostituiscono la miniatura con questo mio mazzo molti l'hanno detto visto che l'ho pubblicata anche su instagram l'hanno associata al signore degli anelli ci può anche stare penso che vogliano intendere quando passano sotto le miniere dei nani è molto molto carina ragazzi ovviamente lo hanno fatto perché è stato fatto notare che la skin non era mai stata rilasciata e quindi spereremo di vedere in game anche questa nuova skin quanto prima magari non a marzo e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento di oggi a me quando io lo vedo quando io lo vedo con quella faccia qua che c'ha i capelli coi mortaretti sparati non non so non so cosa dire il signor jarvis signor jarvis ancora ragazzi nel mirino di molti 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 forum molte e molte discussioni che continuano in perterrite a distanza di giorni a sostenere il pro e il contro del suo ban definitivo da fortnite in realtà il primo vero grande streamer a subire il perma ban quindi l'allontanamento definitivo dal gioco il signor jarvis parla con ovviamente il suo occhio arguto del futuro in un nuovo video che pubblica sui suoi social e dice che preferisce in questo momento allontanarsi per un breve periodo da fortnite e dedicarsi alla sua famiglia anche perché principalmente non può più tornare a giocare a fortnite da quanto ho capito epic games ha blindato anche la possibilità per lui di giocare con un altro ip cosa vuol dire vuol dire che se lo beccano che entra da un'altra casa per dirvi è comunque un casino e penso che decideranno di utilizzare proprio il pugno di ferro quindi noi auguriamo ovviamente il meglio al nostro caro jarvis che in questo momento si è allontanato e speriamo ovviamente che troverà la sua strada nel futuro della sua carriera e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi a questo non ve ne avevo anticipato molto interessante è stato scoperto curiosamente un metodo davvero molto interessante per spostarsi insieme ad un compagno di squadra noccato in modo da evitare di finire sotto il fuoco nemico alle mie spalle abbiamo la centrale nucleare foschi fumaioli se devo essere sincero ci sono atterrato una volta sola e poi non ci sono più atterrato né mi capita proprio mai mai di passarci durante le mie partite ma la particolarità di questa city oltre a usare l'energia di kevin quindi del cubo è appunto il condotto d'aria che entrambe le ciminiere sprigionano guardate un pochettino ragazzi questo video che è davvero molto carino qui c'è un compagno di squadra noccato che in questo momento è stato buttato proprio sopra il vortice guardate lo si prende si usa il vortice si apre il deltaplano e lo si porta via prepotentemente in questo modo ragazzi è davvero facilissimo poter scappare dal fuoco incrociato e se per caso vi capitasse di rimanere blindati in questa location beh potete sfruttare questo bug per scappare alla grande insomma ragazzi le notizie sono sempre di meno ma cerco sempre di tenervi aggiornati aspettiamo tutti la patch 11.11 io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao ciao